Allora guarda io già ti vedo, sei già arrivata qui davanti a me con una particolare raffigurazione che adesso ti dirò, creo due sfere, una per me e una per te di energia protettiva affinché niente e nessuno possa interferire con noi in questa sessione. Allora guarda la particolarità con cui tu mi arrivi con la tua anima mi sta mostrando è che è di fronte a me la tua forma, la tua forma corporea quindi viene integra e abbastanza ferma ma la particolarità, la stranezza chiamiamola così è che arriva lei e come una raffigurazione a rallentatore dietro ha tre o quattro di te che si completano in rallentamento e poi arrivano con dei tempi più rallentati dentro di te e ti formi, cioè sei arrivata e dietro porti una scia di altre te e poi piano piano si congiungono come se non fossi in una unicità, sei forte, sei integra però hai questo muoverti in una sorta di rallentamento che lasci la scia, ecco una figura, ti ho reso l'idea di come mi arrivi in un modo così particolare? Sì, strano. Sì, è particolare questa visualizzazione perché mi riflette questa informazione, cioè mi dà questa informazione come se nel momento in cui tu vivi un evento, vivi il presente, qualunque situazione tu ti capita di vivere, di essere, di esistere non sei completamente presente, cioè faccio un esempio, arrivi in una festa, arrivi, non ne prendi subito il contatto con l'ambiente che sei ma hai bisogno di aspettare, quindi nel momento di attesa che tutte le altre te si congiungono a te e tu diventi la titi che sei hai bisogno di focalizzare, cioè hai bisogno di come se facessi uno scanner di tutto quello che c'è intorno intanto tutta te ti metti in integrità e allora ti metti in connessione, è come se tu camminassi non propriamente in un modo concreto nel mondo in cui tu sei. Ti ci senti con questa particolare descrizione elaborata che mi ha fatto la tua parte animica? Sì, forse, non lo so, ma può darsi, nel senso che infatti magari sono più nell'aria che sulla terra. Sì, non riesci a compartarti con l'ambiente così velocemente perché è come se tu arrivassi da un'altra parte quindi piano piano c'è tutta la sfumatura di te che si deve integrare per prendere il contatto con l'universo con questa fisicità, con questa terza dimensione. Quindi ti può capitare, adesso ho fatto un esempio quando arrivi ad una festa o ad un luogo, però ecco non sei completamente integrata in questa terza dimensione ma non perché non perché non lo sei e lo vuoi e non riesci, perché fondamentalmente ti senti di non appartenere, di non appartenenza come se avessi sempre saputo insomma di venire da un altro luogo. Va bene, questa è la connessione che mi sembra... Sono arrivata comunque. Sì, sì, la connessione abbastanza sicera che abbiamo avuto io e te. Quindi puoi iniziare con la tua domanda e vediamo la tua anima dove ci porta. Io ho diverse domande in realtà, però la prima che mi è venuta oggi perché comunque questo non so se si può sapere anche dei problemi un po' fisici perché mi fa male spesso la schiena forte o dei crampi ultimamente e siccome io penso che sia sempre una cosa non è che non è che hai queste malattie per qualcosa ma sono sempre dei... La parola di allarme. Sì, come se volessero dirti qualcosa, no? Cioè che il tuo corpo comunque... quindi volevo sapere questa cosa come mai... Sì, ho sempre... cioè non mi lasciano stare un po'... non vivo bene, cioè mi sembra di trattare meglio il mio corpo però ancora... è ancora lì che mi fa male, no? Che ho un po' questi dolori e quindi sono... C'è una soluzione per questo, c'è qualcosa alla schiena... cioè attaccato... come se avessi qualcosa, non so, lì alla schiena, no? Che mi... che mi tiene... Che ti trattiene... come se... sto andando a vedere dove mi porta anima... La schiena che è poi comunque la posizione della spina dorsale, DNA... è un po' la sede dell'anima... Diciamo che questo indolenzimento, questa struttura di pesantezza e anche non ti fa riposare molto bene... Perché vedo che nella notte un po' non riesci a prendere una postura... È la comunicazione... è come se anima ti stesse sollecitando ad integrarla nella tua fisicità... Cioè è come se lei ti volesse comunicare di entrare in possesso del tuo corpo... Cioè di... come tu prima hai detto una cosa molto importante... Che anima praticamente come se mi stesse dicendo che vuole un pochino più vivere invece in terra... Hai detto... è come se io vivessi sempre in aria... Non che la tua spiritualità e il tuo senso di abbandono in questa terza dimensione non sia stato gradevole... Ma lei ha bisogno di iniziare a muoversi in armonia con questo tuo corpo... Richiamando a sé con i suoi desideri anche la tua parte razionale che a volte invece è distratta... Ed è... come è amplificata... Cioè non hai confini... Non hai determinazioni... Quindi è anima che cerca di incorporarsi in questo fisico... E fa fatica come se stesse in un jeans stretto... In una qualche cosa che non sente comodo... Adesso ti faccio una domanda... Perché questa particolare dimostrazione... Questa comunicazione che lei mi fa è un po' diciamo stravagante... A parte che so che come mi dicevi tu fai esercizi, meditazioni... Però la tua vita nel sociale... Quindi in giro nei parchi, comunicazione, interazione con questa terza dimensione... Come sono questi rapporti con la vita del quotidiano... Perché lei si sente come se stesse muovendo un corpo in avanti... A fare delle azioni... A cercare una sorta di compagnia che non è così aleatoria ma profonda... E vedo che fa fatica a muovere questo corpo... Raccontami un po' che cosa accade nel tuo quotidiano... Cioè le solitudini... Io sto abbastanza con me stessa... Perché ricerco tantissime cose... Studio tanto... Dipingo... Faccio dei lavori comunque che devo stare con me stessa... Cioè che sto con me stessa... Quindi in questo momento soprattutto non sono obbligata a lavorare... Perché normalmente lavoro nella moda comunque con un sacco di gente... Oppure faccio esposizioni... Quindi la gente io la vedo... Però la vedo... Lontano perché io vedo che c'è una dispersione... Non c'è qualcosa di concreto... Sì no... Non faccio un lavoro ogni giorno dove vedo gente... Parlo con la gente ogni giorno... Sono molto di più nella mia ricerca... Nelle mie cose... Poi contatto la gente... O aiuto la gente in altri modi... Però non è quello normale insomma... È come se lei mi stesse spingendo... Mi fa delle azioni di empatia... Cioè di sentimenti... Quindi amicizie vere... Compagni veri... Queste strutture di riempimento e di confronto empatico ed emotivo... Che sente invece che l'ha un pochino svuotata... Come se fosse indebolita... E quindi nella sua sede... Che sono le tue spalle... La tua schiena... Si sente scomoda... Invece relazioni proprio di amicizia... Relazioni affettive... Mi sta dicendo la realtà che ne è assente... Come inaridita in un certo senso... Da quello che poi sono gli incontri del passato... Che l'ha un pochino raffreddata... Forse... Forse nel passato... Ma adesso sto con una persona che... Ti riempi... Senti... Ma non lo so... È molto particolare come persona... Mi sembra anche lui che l'ho incontrata... Perché ci si è incontrate... Si sono incontrate le nostre anime... Si sono riconosciute le nostre anime... Quindi a livello più diverso... Non è a livello... Fisico... È più emozionale... È un amore molto animico... Secondo me... Molto animico... E però guarda... Lei... Fondamentalmente mi sembra che... Cioè non me ne ha... Non me lo ha fatto visualizzare... Questa fusione... Questa... Diciamo... Questa carica... Perché in relazione... A questo... Poi adesso comunque lo andiamo a identificare... Andiamo a vedere... A questo mal di schiena... È come se lei stesse... Vivendo scomodamente dentro il tuo corpo... Ma non che il tuo corpo sia... Malato... Perché la tua fisionomia cellulare... Non mi... Non mi fa percepire... Dei disaccordi... Anzi... Le vedo abbastanza in armonia... Però vedo che lei è... Come se... Non... Non stesse bene... In questa sorta di isolamento... Quindi... Di trasmissioni... In chiusura... Empatiche... Ha bisogno di interagire... Animicamente... Di più... E la... Di esprimersi di più... Ed è... Come se tu... La costringessi... Se questo corpo la costringe... Ehm... Vediamo... Questo è quello che... L'esprimersi... È come se fossi più... Accondiscendente ad accogliere... Le situazioni armoniose... Che della vita... Cioè... Quindi le vedi... Il sole... La natura... E tutto quanto... Però... Non le esprimi... Nella tua natura... Fisiologica... Cioè... Con il corpo... Con l'armonia... Che può essere... Sentimenti... Abbracci... Come sei... In un rapporto... Ehm... Rigida... Anche affettivo... Amichevole... O sei espansiva... Coccolona... Come ti esprimi emotivamente? Ci sono dei momenti... Ci sono dei momenti... Che ho bisogno di stare da sola... E sono più rigida... E ci sono dei momenti... Invece che sono molto... Molto più dolce... Molto più... Più... Coccolona... Ecco... Probabilmente... Adesso stai vivendo un momento... Un po' di rigidità... E quindi... Cozza... Che diciamo... Crea questi corti circuiti... Con la sede della tua anima... E con il tuo corpo... Questo... È il... La situazione... Del tuo mal di schiena... Forse sì... Non mi sembra di esprimermi... Veramente come sono... E sono sempre alla ricerca di questo... Ma faccio una fatica pazzesca... Non so così... Fai fatica... Eh sì... Lo vedo... Non so così... Come mai... Infatti... Che poi diventa anche altre domande... Perché comunque... Ci sono come sempre dei blocchi... Arrivo fino a un certo punto... Perché posso fare tante cose... E poi... E poi c'è una sorta di blocco... Che non ti fa andare oltre... Non ti fa esprimere... Non ti fa aprire... Ecco... Non c'è... Non trovo... Più che altro... Mi sono reso conto che non trovo... È come se... Mi imbatto sempre in persone... Che magari non mi interessano... Sì... E quindi... Cioè... Ho delle persone che mi piacciono molto... Con cui magari parlo... Però più... Logicamente... Un po' più staccata... Perché poi mi sono trasferita a Berlino... Eccetera... Quindi un po' più staccata... Però... Non trovo mai... Persone super... Cioè... Sì... Non so... In vita mia ne avrò trovato due... Dove... Dove mi diverto... Proprio dove sei... Quando ti lasci andare completamente... Ti diverti... Sì... Mi manca un po' questa parte... Sì... Devo dire... Di lasciarmi andare... Nello stare bene... Nel divertimento... Sì... Sono sempre molto rigida... Nel senso... In quel senso lì... Sì... Che devo fare delle cose... Devo... Capito... Più un dovere quasi... Sì... Che un piacere... Anche nel... Per dire... Per andare nelle feste... Era quasi un lavoro... Non so come dire... No? Sì... Quindi quello sì... Mi ritrovo... E sento questo bisogno... Questa voglia... Sento che... Come se il mio cuore... Dovrebbe... Dovesse aprirsi... Sì... Ma non riesce a aprirsi... E non capisco come mai... Quello sì... E così anche sul lavoro... Cioè... Tutte le cose si bloccano poi... No? Sì... Si bloccano... Perché tu hai... Sì... Questo blocco... Ecco... Questo è... La comunicazione... Della tua parte animica... Che ti lancerebbe... Avrebbe desiderio... E necessità... Di vivere a pieno... Con tutta la sua struttura... Che anima e amore... Empatia... Solare... Allegria... Leggerezza... Ecco... Possiamo usare... Bravissima... Questa parola... Questa parola... E... E invece c'è questo blocco... Questa chiusura... Della tua parte... Dimmi... Scusa... Posso bloccarti... Perché mi è venuto... Sì... Quando vuoi... Mi è venuto un momento... Proprio di... Che ho capito delle cose... Nel senso... Che in realtà... Io penso di... Come persona... Come anima... Penso di essere... Simpatica... Divertente... Leggera... Però mi sono messa... Tipo un'armatura... No... Fin da picco... La parazza... Sì... Che è successo... Comunque... Sicuramente... Partendo dalla mia famiglia... Sì... Dove... Ho assunto... Tipo... Invece... Questa cosa di rigidità... O di... Di rispondere... In un certo modo... E di... Non sorridere... Metti... O di essere più seri... Più... Più dura... Ecco... Sì... Sei stata... In un certo senso... Limitata... Nel... Nel... A crescere... Coltivare... La tua struttura anima... Animica... Proprio... La tua essenza vera... E parte tutto... Dalla tua famiglia... Perché... Mi è venuta... Proprio... Tua madre... Nella rigidità... E tuo padre... Nella crescita... Come una sorta... Di... Allontan... Come se... Avessero calzato la mano... Per modificare... La tua vera espressione... Allontanandoti... Un po' con indifferenza... Un po' con... Brontolicci... Comunque... Diciamo... Una... Crescita... In quella famiglia... Che ti ha modificato... Che cosa è accaduto... Qual era il rapporto... Che avevi tu... Con tua madre... Perché... C'è vero... Tuo padre... Sempre presente... Che si mette in mezzo... Però la relazione... È molto più sottile... È molto più importante... Dove c'è stata... Con tua madre... Sì... Io... Avendo fatto anche... Della costellazione familiare... È uscito molto... Molto questa cosa... Che sono nata sei mesi... No... Quindi ho avuto un abbandono... Nel momento in cui sono nata... Lei è stata male... Io ero in un ospedale... Lei in un altro... Quindi per tre mesi... Fino a nove mesi... Io non l'ho vista... E sono stata in incubatrice... Senza essere mai presa... Cioè non so se c'erano i medici... O cosa... O con mio padre... Ogni tanto... Però... È stata una sorta di abbandono... E... Penso che loro... Non mi... Mia mamma sicuramente... Ha avuto un po' di problemi... Per avermi... Perché aveva già tre figli... Non ne voleva forse un altro... Per una questione economica... E quindi... Alla fine questo... Penso che... Quello che penso io... Che mi mancano quei tre mesi... Sempre... No... Cioè un po' così... E sento sempre... Questa cosa dell'abbandono... Però ci ho lavorato... Su questa cosa... Cioè nel senso che ho fatto... Una costellazione... L'ho tirata fuori... Ho cercato di... Di rincontrare mia madre... In qualche modo... Eccetera... No... Però... Scusami... Ho visto l'incazzatura... Che ho con mia mamma... E infatti... Anche durante la mia... Cioè comunque io lei... Era... Cozzavamo sempre un pochettino... No... Nel senso che... Infatti lei mi diceva sempre... Come mai non sei come tua sorella... Che lei è super tranquilla... Simpatica... Invece io c'ho sempre questo... Incazzatura... Infatti un'altra domanda... Era anche... Che a volte mi incazzo facilmente... Cioè proprio sento una rabbia dentro di me... Che mi esce... Ma con me stessa... Hai capito... Quindi... Neanche con gli altri... Perché normalmente... Non sono... Stronza o cose così... Però... Certo... Sì... Siccome ha bisogno di essere ancora metabolizzata... Sfocia anche in momenti che non sono proprio neanche i più appropriati... Sì... Un particolare segno diciamo... Te lo ha lasciato questa cosa di cui tu mi hai parlato... Questi tre mesi di isolamento... Sicuramente non ti ha fatto gradire la decisione che tu hai preso di venire in questo mondo... Perché hai deciso di scendere in questa reincarnazione per continuare il tuo percorso di crescita e di conoscenza... In un imprevisto... Perché questi... Diciamo... Non proprio i tre mesi mancanti... Ma questo ingresso in questa maniera... In questa vita... Quindi in scatolata ancora... In una freddezza... Ti ha modificato la tua forma... Quindi l'arrabbiatura... A parte l'abbandono di tua madre... Perché in un certo senso... Il fatto che tu sei nata prima... Per come ho questa lettura... Questa visione... Come anima mi sta praticamente mostrando tutti i dettagli... Non è che è stato per un abbandono... Ma è come se lei in tutto il tempo della gestazione... Avesse sempre desiderato di perdere questo feto... Quindi tu... E alla fine il desiderio di perdita ti ha fatto proprio venire anche prima... Tanto che lei lo voleva espellere nel suo grembo... Perché a parte le situazioni economiche... Però anche il rapporto affettivo con tuo padre non era... Cioè tua madre ha vissuto questa gravidanza... Proprio in una maniera sconcertante... Quindi la rabbia... A parte il sentirti non desiderata... Ma è proprio il fatto di essere stata modificata con questa nascita e ingabbiamento... Quindi tu ti sei sentita... Hai portato con te questa sensazione... Perché tu nell'incubatrice non eri fisiologicamente connessa con nessun tipo di sentimento... Freddezza... Non eri pronta a sentire quel materiale... Quindi questa gabbia tu... Te la sei portata... Quindi ingabbiata la rabbia... Te la sei portata sempre come struttura modificante della tua percezione... Della tua anima... Ed è qui che adesso noi lavoriamo... Se tu sei d'accordo Titti... A romperla questa gabbia... Perché questa ingabbiatura... In questa gabbia... Questo... Sentirti costretta oltre che indesiderata... Ti ha fatto oltre che modificare... Avere la percezione di tutto intorno a te in modo diverso... Non a caso ti senti bene e cerchi la solitudine... Perché sei ancora sotto quella forma lì... Senti che ti appartengono queste sensazioni che l'anima mi sta dando? Sì... Sì... Sì sono pronta per spaccare tutto questo... Ecco sì... La voglia proprio di essere... Di stare bene... Libera... Sì... Tu hai bisogno di stare libera... E di non essere costretta in questa incubatrice... Che comunque limitava i tuoi spazi... La tua percezione... Ed ha una cosa importante... Modificato la tua essenza... Che invece scendi con una luce immensa... E piano piano ti ha modificato... Facendoti restringere in un certo senso... La tua energia... Nella fisicità... Quindi è come se nel tuo corpo... La tua anima non ti... Non fosse mai riuscita a indossarti completamente... Non mi sorprenderebbe che tu hai mani e piedi un po' freddi... E a volte anche delle... Freddi... Freddi... È vero? È vero? Freddissimi... Ecco... È come se non mi arrivasse il sangue alla fine... Eh... Sì... Come noi diciamo solitamente... In realtà è perché tu hai fatto un'esistenza... Che anima non è riuscita mai a... Immaginati proprio come se tu fossi una tuta il tuo corpo... A esprime ed espandersi completamente tutta dentro di te... Limitando tutte le tue capacità... Quindi la connessione con le... È bellissimo questa immagine... Ecco... Allora noi adesso siamo in un luogo, tempo... Dimensione dove possiamo modificare quello che è stato... Quindi siamo lì ai tuoi sei mesi... Dove ti vengono... Ti mettono in questa incubatrice... E tu con la tua energia... Che si sta restringendo... Rivibri a una vibrazione al contrario... Quindi continui con l'emozione con la quale tu sei venuta... Il ricordo del tuo punto di origine... La tua forma di origine... Vibri così a un punto esagerato... Elevato di espansione... Un'espansione di amore... Armonia... Connessione con questa terza dimensione... Tanto da rompere quella cassa... La rompi... La distruggi... Non esiste più... Non è neanche una... Non avrà modo mai di ricompattarsi... Ricrearsi e rimetterti in quello stato... Quindi che cosa fai in quella espressione di espansione... Ti ricolleghi con tutti i tuoi ricordi di provenienza... Con tutti i tuoi progetti entusiasmanti di essere e vivere in questa reincarnazione come Titti... E che cosa fai? Ti ricongiungi con una mamma che nonostante abbia desiderato di non averti per tutto il tempo... Tu sei lì e con questa espansione modifichi anche le sue vibrazioni energetiche in positivo... Dissogliendola dalla sofferenza... In un certo senso anche alla sottintudine che lei aveva in quel momento con un marito che andava, tornava... E le aveva lasciato un po' tutti gli impegni da fare... Quindi la sorreggi, la sostieni e ritorni e vieni in casa... Stavo trascorrendo tutto il tuo percorso di crescita, nascita, di vita vissuta insieme alla tua famiglia... E di espressione massima della tua essenza... Quindi sei in questo corpo che cresce... Hai 5 anni, 6 anni... E stai arrivando con questa espansione, con questa vibrazione elevata... Al qui ed ora, dove stiamo parlando adesso... Rincorporando e riprendendo posizione nel tuo corpo... Quindi allineandoti anche con la tua schiena completamente... Ecco... E questa gabbia non c'è più... Questa trasformazione di te... Questa ripresa e possesso della tua vibrazione... Della tua espressione... Della tua espansione... Farai in modo di metterti in una condizione di apertura... E modificare le energie intorno a te... Affinché anche gli incontri con le persone... Che avrai nella tua linea temporale futura... Sarà di incontrare persone che vibrano alla tua stessa vibrazione... Quindi di leggerezza... Di espansione... Di armonia... Di amore... Di cordialità... Educazione e rispetto... Perché tu sei completa... Integri comunque in questa espressione di mondo libero... Però... Tutto... L'amore e la libertà di ognuno... Ma il rispetto e la... Diciamo... Il rispetto e la cordialità... Degli altri... La dai... Ma vorresti anche riceverla... Quindi è questo che ti mette in una vibrazione... Di attrazione... A persone che sono come te... Bene... Questo è un blocco molto importante che abbiamo sciolto... Bellissimo... Anche perché... Che bello... Cioè... Sarei felice di essere me stessa... Non so come dire... Sì... Infatti... Infatti l'altra domanda era anche... Volevo chiederti come... Cosa sono venuta... Alla fine la mia anima... Cosa è venuta a fare qui... Perché... Anche quello che mi chiedo... Se è successo tutto quello che è successo... C'è sempre un motivo no... E... In fondo... Cosa è venuta a fare la mia anima... Perché ha avuto questo blocco... E alla fine cosa devo fare... Cioè qual è... Perché io mi sento molto... Che devo aiutare gli altri... Cioè non so come... Ci sono delle situazioni in cui aiuto gli altri... Perché non so... Io ad esempio leggo i tarocchi... Sto studiando astrologia... Sto facendo tutte queste cose... Perché mi interessano molto... Sono molto legata a queste cose... Sì... E... 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 E poi mi vengono da fare anche atti psicomagici... O certe cose così no... Quindi... Eh... Mi piace aiutare gli altri in questo modo... No... Quindi ancora... Sì... Io ti vedo... Tu sei venuta giù... Fondamentalmente... La... Eh... La parola... Chi esprime... E giustifica... Tutte le tue... E... Incarnazioni... Perché non è... Non è la prima... Questa... Eh... Deciderai poi tu se sarà... Se sarà l'ultima... Però non è la prima... Eh... La parola che mi è venuta... Tu sei una viaggiatrice... Sei proprio una viaggiatrice... Di tempi... Di dimensioni... Quindi salti da... Non stai facendo reincarnazioni evolutive solo in questa terza dimensione... Ma la fai saltellando qua e là... Ritornando... Ma poi vai anche in altre dimensioni... In altri luoghi... E poi ritorni... Sei una viaggiatrice... Quindi mi vieni proprio con uno zaino in... 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 Così alle spalle... Con tutte le... Sì... Le esperienze della tua vita... Che cosa accade però con questa allegria... Con questo potere... Con questa leggerezza con cui tu scendi... Che non sempre... Eh... Progetti... E... Sistemi... Come si dice... Sì... Progettare le tue reincarnazioni... Quindi vedi chi è che... Eh... Non scendi scegliendo i tuoi simili... Cioè la tua famiglia... Scendi e basta... Nel momento in cui c'è un posticino dove... Eh... Vieni attirata... Perché è una situazione di fecondazione... Tu scendi giù... Non... Non sei... Una... Un'anima che progetta le sue reincarnazioni... Quindi questo... Eh... Scendere... Scegliere... Il grembo di tua madre... Non è stato un progetto... E la famiglia che ti sei scelta... Non era progettata... Tu prendi... Eh... Come se fossi il primo aereo... Ecco... Chiamiamolo così... Poi forse nella tua vita sei così... Ti senti... Legata... Un pochino che ti risuonano queste informazioni... Infatti... Anche l'altra domanda era un po' questa... Perché... Mi sembra come se adesso fosse giunto il momento di staccarmi da tutto il mio passato... Non so come mai... Cioè... Proprio di lasciare anche la famiglia... Ma no... Allora mi sono rimasti solo due fratelli... Che ci parliamo moltissimo... Assolutamente... Mia sorella è una che mi aiuta tantissimo... Anche lei è un po' molto spirituale... Sente un sacco di cose così... Un po' veggente anche... Comunque... A parte questo... Io mi sento come se dovessi tagliare... Proprio perché non è... Non mi appartiene... Infatti la mia domanda era anche questa... Perché siccome è rimasta una casa... Che dividiamo in tre... Io quasi quasi la volevo lasciare... E andare da qualche altra parte... Perché sono già in un'altra parte... E quindi... Volevo capire... La mia domanda... Perché tanto ci sono le... Cioè... Ma tutto... Mi piace... E mi sento... E non posso dare... Tutto... In questo momento... Per sentire questa leggerezza... Perché non è... Come dire... La mia domanda... Sì... Guarda... Un altro momento... Un po' attratto... Però... Sì... Sei arrivata a un punto... Che vuoi sentire questa leggerezza... E non vuoi essere attaccata a nulla... Perché questa è la tua caratteristica... Di non essere... Legata... A nulla... A chi ti trattiene... Poi comunque... Amicizie... Familiari... Con rispetto... Perché ti dico... Tu hai... Mi senti bene? Sì... Ecco... Eh... Lasciarla andare... Sicuramente... Cioè... Tu sei... Non dico un bivio... Della tua vita... Sei proprio come in un trampolino... Ed hai... La necessità... Di saltare... Proprio da questo trampolino... E lanciarti... Ma una cosa è importante... Che tu devi sapere... Che non ti lanci... Per fare un tuffo... Perché... Questo trampolino... Quantico... Che ti farà fare... Un salto memorabile... Ti farà rendere conto... Che tu hai le ali... Cioè... La capacità di poter... Eh... Sfruttare al meglio... Tutte le energie... Che muoverai intorno a te... E di essere con leggerezza... E di essere con leggerezza... Questa leggerezza... È come se tu... Eh... Sapessi di aver avuto sempre... La capacità di volare... Ma che in un certo senso... Questa scatolina... Che abbiamo distrutto... All'inizio di questa reincarnazione... Te le abbia fatto dimenticare... Quindi... Fondamentalmente... Questa sorta di viaggiatrice... Quindi di non avere zavorre... E trattenimenti... È proprio... Il ricordo di te... Ti sta riaffiorando... Tutto quello che è... Dentro di te... Adesso abbiamo dato una bella accelerata... Perché abbiamo veramente... Messo in contatto... La tua vera natura... Che cosa accade... Con questo desiderio di aiutare... Tu... Aiutando gli altri... Non hai... Eh... Diciamo... La capacità di guarire... Però... Eh... Hai... Come un dovere... Come un... Un'impronta tua personale... Di risvegliare le anime... Cioè tu entri... Non nel cuore... Fai vibrare le anime degli altri... Poi alcuni più sensibili te lo diranno... Te lo avranno già detto... Eh... Quindi il tuo scopo... Nelle vite che fai... Ovunque... In qualsiasi dimensione... Tu... Appari... Sei proprio... L'anima che risveglia le coscienze... Da questo assopimento... Quindi... Questa connessione che hai sempre con l'esoterico... È perché tu sei proprio... Porti il testimone... Di questa... Mondi invisibili che esistono... Quindi... Risvegli le coscienze... Le coscienze... Eh... Che tu solitamente... Eh... Comprendi poi... Appena vedi... Eh... Con facilità... Eh... Chi è capace di ascoltarti... Cioè tu hai un sesto senso acceso sempre... No ma infatti io capisco molto bene le persone cosa devono fare... Ad esempio... Cosa portate a fare... Cosa dovrebbero fare... Mi viene molto facile capire una persona cosa... Invece che perdere tempo a fare quello che stanno... Esatto... Hai ragione... La tua natura... Quello che era... Eh... Diciamo... Eh... Un pochino... Eh... Sbagliato... Era che... Erano limitate le tue capacità... Chiusa in questa scatola... No? Come se... In un certo senso il quotidiano... La matrix... I condizionamenti esterni... Avessero limitato... Non solo la tua anima... Ma anche... Un pochino costretto... La tua mente razionale... A pensare che il mondo... Fosse stato così... Quindi a limitare anche le tue capacità... Le tue modi di esprimerti... Quindi questo cinque... Eh... Il quinto chakra... Quello della parola... Non esplode con... Eh... Con tutto il suo potere... Ma si limita... Per cercare di far capire... Con... Con meno paura gli altri... Invece no... Tu hai proprio la capacità... Di andare diretta... Di avere questo potere... Al cento per cento... Di far vibrare... Le altre coscienze... Al risveglio... Al risveglio... Qualunque... Esso sia... Sì... Bene... Sono contenta... Sì... Questo proprio te lo confermo... Eh... E infatti... Allora... Siccome poi... Alla fine... Faccio tante cose diverse... Che è appunto... Quelle esoteriche... Appunto tra l'astrologia... E leggere le carte che ti dicevo... Che potrebbe diventare anche un lavoro eventualmente... Sì... Oppure... Dipingere l'arte... Tutto il mondo dell'arte... Perché dipingo anche... Ci sono stati momenti in cui ho venduto anche... Oppure... La moda... Nel senso che ho lavorato anche nella moda... Mi piacciono molto gli abiti... Eccetera... Quindi... Sono ancora incasinata... Perché... Non... Cosa devo fare... Cioè... Nel senso che... Alla fine... Non sto facendo niente comunque... Perché dopo la pandemia... Mi sono bloccata... Eccetera... Adesso sto prendendo dei soldi dallo Stato... Praticamente... Giusto per l'affitto... Capito... Però... Vabbè... Niente... Guarda... La tua situazione con l'esoterico... È il piano proprio dove tu... Sciali... Dove sei... Espanse... Dove mantieni la tua carica energetica... Perché... È un dare o ricevere... Che tu riesci a gestire molto molto bene... La tua anima... Nella pittura... Nei dipinti... Per quanto comunque lei... È felice... Insomma... Mi fa vedere che è orgogliosa... Di quello che viene fuori... Usando... Questo tuo corpo... Qui nella pittura... Però... Lei è stanca di questa struttura... Di isolamento... Perché è vero... Che ti senti... In un certo senso... Fiera anche tu... Di quelli che sono poi... I tuoi capolavori... Però è come se l'anima... Mi fa sentire... Un velo di tristezza... È come se ogni opera... Che tu concludi... Alla fine lascia dentro di te... Un velo di... Di rancore... Di tristezza... Di malinconia... Ecco... Chiamiamola così... Quindi... È una chiusura... O di fatica... Com'è? O di fatica... Ecco... Vedi... Perché ti affatica... Ti esaurisce... Non è una cosa che... Che non sento... Che non sono... Anche lì... Cioè... Forse la dovrei fare... Ma in un modo più libero... Invece sono sempre... Sono stata molto chiusa... Perché comunque... Facevo che ne so... I ritratti per gli altri... Quindi... Dovevo farli in un certo modo... Anche lì... Mi limitavo... Ti limitava... Mentre secondo me... Anche la pittura... Perché comunque l'arte... Per me è anche una cosa molto interessante... Cioè... Mi piace... Vorrei continuarla... Ma in un modo molto più... In un... Dando un'espressione... Un'impronta tua... Non limitandoti... Si basta essere limitata... Non sei più dentro questa scatola... E' quello che bisogna di te... Ecco... Si... 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 Assolutamente... Devi lanciarti... Ecco... Proprio in questo trampolino... E basta limitazione... Essere te stessa... Quindi... Secondo come... Vedo... La proiezione... Della tua linea temporale futura... Hai la capacità... Di portare avanti... Un po' tutte queste argomentazioni... Di cui tu mi hai parlato... Anche perché la tua anima viaggiatrice... Intanto si annoia della routine... Non ama la routine... Non gli piacciono sempre i stessi posti... E immaginati se tu puoi pensare ad un futuro incanalato solo in un determinato lavoro... Anche se può piacerti... Quindi mantenere... Sei come un giocogliere che gioca con le sue tre sfere... Le mantiene sempre... E crea in quel momento che gira queste sfere... L'arte... Tu hai la capacità di portare avanti... In diversi momenti... Nei stessi momenti... Tutte e tre insieme... Queste cose... Che ti appassionano... Anche la moda? Sì... Anche la moda... Sì... Ma dici che ci sarà... Secondo... Non so se... Sì... Nel momento in cui tu sei proiettata... E aperta... Verso l'esterno... Ovviamente adesso remiamo contro a questa pandemia... Che credimi... Ci sono delle gregole molto forti... Di magnetismo... Dove c'è la paura... La malattia... La confusione... La menzogna... Quindi in un momento... Dove stiamo mantenendoci forti... Per non essere travolti da quello che stanno cercando di fare... Fortunatamente noi positivi creiamo l'onda... E iniziamo a vibrare per demolire tutto quello che sta accadendo... Ma quando tutto ciò si calmerà... Con la tua emotività... Con il tuo potere... La tua apertura... Si creeranno anche gli eventi... Che apriranno questi sentieri per te nel futuro... Sì ci saranno... Però ora dobbiamo pensare che dobbiamo buttare via... Aspettare in attesa che questo strano momento quantico magnetico di negatività... Si dirà... Si dirà di... E vada via... Infatti io vorrei esserci aiutare anche per questo momento... Perché sento che sarà molto più bello... E meno male è successo... Certo... Ognuno di noi nelle nostre meditazioni... E nei nostri momenti... Dove non ci facciamo catturare da questa continua depressione... Buttiamo energia nell'universo... E combattiamo queste energie di bassa vibrazione... Ognuno nel nostro piccolo creiamo l'unità... E facciamo il vento a sfavore dell'avanzamento di questa oscurità... No ma mi ha aiutato tantissimo... Infatti anche da lì che ho capito che... Come la finzione era forte... E come invece bisogna essere veri... Per quello che ho bisogno di essere me stessa in questo momento... Assolutamente sì... Proprio in connessione sì... Importantissimo... Quindi sto ancora di più... Sto ancora di più... Cercando di capire come arrivarci insomma... Stai facendo un buon percorso informativo... Di crescita... Di consapevolezza... Di accensione... Tanto è vero... Che sei arrivato a questo punto... Dove finalmente hai sbloccato quel blocco... Che ti opprimeva da molto tempo... Quindi sei arrivato anche a comprenderlo... Lo hai già metabolizzato... Sei già in cambiamento... Un'altra cosa... Berlino... Io sono venuta a Berlino... Perché quando sono arrivato a Berlino... Ho sentito proprio... La libertà... Non so come dire... Sì... E... Boh... È sempre la mia città... Secondo... La mia anima... Cosa dice... Come sta... Deve cambiare... Secondo te... Secondo la mia anima... Guarda... Berlino... Ti fa sentire proprio... Come hai detto tu... Questa libertà... Perché non ha identificazione... Non ti identifica... Non identifica gli altri... Ed è identificabile... Come cittadina... Quindi ti rimette in connessione... Riattivando tutta te stessa... C'è... Lei perché mi fa così... No... Si ricorda... Questo clima... Questo cielo... I colori... Manca... Sì... Mancano i colori... Però diciamo che... Avevi bisogno di una fuga... Non riesco a capire da dove... Via... Però... È una dimensione di libertà... Che ti necessita... Per ripristinare... Tutte le tue connessioni... Non sarà la tua città... A parte che ti dico... Tu... Ti muoverai... Hai bisogno... Di vibrazione... Di vibrare... Innovativo... Quindi non sarà la tua città... Per sempre... Ti muoverai... Però lo farai un pochino più là... Hai bisogno di... Di esserci... Di sentirti... E ricostruire te stessa... In un posto... Dove non... Non c'è condizionamento dall'esterno... Ok... E Berlino lo è... Allora... Quindi va bene per ora... Sì... Per ora va bene... E volevo dirti... Tu... Allora io... Per quanto riguarda il lavoro... Pensi... Che arriverà... Sì... Dici che non ho problemi... Perché adesso... Allora... Mi sono messa in questa situazione... Del job center... Sì... Che mi è comoda... Logicamente... Perché posso studiare... Intanto che mi danno i soldi... Vado avanti con lo studio dell'astrologia... Ad esempio... Che mi interessa... Però nello stesso tempo... Sento che... È come un'altra gabbia... Perché loro mi... Mi mandano lettera... Ogni volta... Quindi ho bisogno... Ok... E quindi... Tu dici che il lavoro... Comunque sono tranquillo... Quindi i soldi... Perché i soldi... Sono sempre una roba... Cioè... So che non ho mai avuto problemi... Ma... È una cosa che sento legata a mio padre... Quella... No? I soldi... E quindi... Secondo me... Io non avrò mai problemi di soldi... Perché ogni tanto... Sento che non avrò problemi di soldi... Però... Ogni tanto mi viene lo stress... E ricado come se... Se fossi un po' ignorante... Comunque più stupida... Più... Incosciente... Ecco... Senza la mia coscienza... Quando... Mi succedono delle cose con i soldi... E quindi voglio smettere anche questo... Cioè capito come... Voglio dare uno stacco... Perché... Ho presente... Invece come... Cioè non ho bisogno... Cioè... Le cose di cui abbiamo bisogno ci arrivano... Vanno e vengono... Bravo... Sì... Vorresti non cadere... Alcune volte... Come può capitarti... Nei momenti particolari... In alcuni eventi... Di entrare... In una condizione un po' razionale... No? Un po' meccanica... E materiale... Non posso... Perché ogni... Cioè... Sai... Io molte volte vado a fare la spesa... Vorrei comprare... Perché... Cerco di curarmi anche fisicamente... Mangiare bene... Adesso... Certo... Cioè... Stai parando... No? Anche cucinare... In un certo modo... Perché so che il corpo è importante... E quindi certe volte... Addirittura magari non posso spendere dei soldi... E quello mi dispiace... Dico... Ma cap... Certe volte... Vedo come paperon dei paperoni... Certo... Sì... Ho capito... Ma noi guarda... Facciamo questo... Intanto ti rimettiamo in una vibrazione... In comunicazione con questa particolare situazione... In equilibrio... In armonia... E già che anima si è ricompattata con tutta la tua fisicità... Ed è messa in espansione... La mettiamo insieme al tuo spirito... Alla tua parte razionale... In attenzione al mondo che ci circonda... Perché... Non a caso... Questo mondo è l'ordine... Dovranno prenderne coscienza... Tutte e tre insieme... In questo mondo così razionale... Questa economia... Questo denaro... Ha bisogno di fluire... In ingresso e in uscita... Quindi sicuramente che fossero... E si mettessero in attenzione... Affinché questo flusso energetico... Economico... Per te... Per i tuoi fabbisogni... Per le tue necessità... Per un quotidiano di vita... In questa terza dimensione... Affluisca serenamente... Positivamente... E in uno stato di equilibrio... Non di negatività... Ma di positività... Cioè non in meno... Ma in più... In un circolo energetico... In un circolo energetico di... Entrate e uscita... Perché noi non siamo avidi... Quindi tutto quello che ci entra... Saremo gran bel felici... Di rimetterlo in circolazione... Ma che loro abbiano la capacità... E l'attenzione... Di attirare... Quindi gli eventi... Che fanno entrare... Queste... Queste situazioni positive... Economiche... Lavori... Scusami... Perché ti dico... Io se avessi più soldi... Cioè sarei molto contenta... Tipo di invitare la gente... Certo... Per cose felici... Capito... Cioè... Fare delle cose felici... Infatti... Vivere con serenità... D'allegria... Questo... Momento... E vinceremo con gli altri... Capito... Certo... Sì... Progetterei delle cose... Oppure... Quindi... Questo... In questo modo... Mi piacerebbe usarli... E questa lettura... Questa lettura... Delle carte... Che tu fai... Non lo potresti mettere online... Sì... Sto pensando... Ecco... Sì... Perché... Quello è all'inizio... Non so se sono ancora pronta... Per farlo... Eh... Questa... Limitazione... Non esiste più... Da qui... Ormai... Dopo la sessione... Si avvierà un processo evolutivo... E di autostima... Per te... Di chiarezza... Che non ci saranno più limitazioni... Vengo a trovarti allora... Sì... Appena aprono tutti gli aeroporti... Eh... Un'altra cosa... No... Dovevi finire... No... No... Un'altra cosa che mi chiedo ogni tanto... Io ho qualcosa a che fare con l'Africa... Beh... Guarda... Non a caso... Questo... Anima... Prima mi diceva che... Faceva freddo... Tu... Sei... Per il sole... Per la... Mi porta... Come se... Avessi percepito... In una vita... In Africa... La tua... Super connessione... Corpo e anima... In questa terza dimensione... Il caldo... La nudità... La... La... Cultura tribale... Sei connessa... Con un'esperienza... Che ti ha lasciato... Dei meravigliosi ricordi... E quindi... Quando senti caldo... Africa... Tribù... Nudità... Perché... La connessione... Dei piedi scalzi... Con la terra... Con l'essenza... Senti vibrare... La tua anima... Sì... Perché hai dei ricordi... Dei... Dei sogni... Che ti portano... In quella... In quella terra... Sì... No... Ma perché ci sono anche stata... Ma... C'è qualcosa che mi piace... Tantissimo lì... Sì... Io... Quando sono andata... Sono stata un mese adesso... In Mozambico... Novembre... Sì... Ho chiesto... Ci ho pensato... Come mai ero lì... Come mai l'Africa... E mi... E ho capito... Ho sentito come se dovessi tornare... Nella vita prossima... Sì... Eh... Ci sei già stata... Vivendo una situazione... Eh... Di tribù... Quindi... Eh... Di... Comunità... Diciamo... No... Eh... Una cosa... Eh... Molto bella... È che sei stata anche... Madre... In quell'occasione... Ma non era un figlio tuo... Era un figlio della comunità... E così... Eri tu per la comunità... E lì l'hai vissuta appieno... Questa tua bellezza di anima con la fisicità... Senti gli odori... Riconosci la terra... Riconosci... Sì... Anche in questa vita... Andando via... C'è una divisione... C'è un... Se la lascia ai tuoi fratelli... Loro magari... Ti daranno qualcosa... Della tua parte... Però sì... La lascerai questa casa... Sì... Perché... Non so... Io non... Non mi sento... È bellissimo il posto... Ma non mi sento legata... E poi... Anche... L'ultima volta ho avuto un po' di discussione... Non mi piace... Non mi interessa... Certo... Voglio stare tranquilla... Quindi... Capito... Non... Però... Logicamente... Quando si dice... Sai... Hai un posto... Non si sa mai che nella vecchiaia... Hai bisogno... Capito quel discorso lì... Che... Che io non capisco... Perché vivo in un altro modo... Però... Eh... Lo so... Però guarda... Tu... Eh... Avrai la capacità... Di... Di intraprendere... Questi nuovi lavori... Che ti dicevo... Un po'... Tutti quelli che mi hai... Elencato... Eh... E non hai bisogno di un luogo... Lavorerai online... In internet... Spedizioni... Vedo che... Se... Ti metti... Un po' in questo mondo innovativo... Tecnologico... Che non è che fa parte di te... Ma che non è che non è che... Non sei capace di sfruttare al meglio... Per le tue esigenze di vita... Quindi fondamentalmente... Eh... Essere appesantita... O zavorrata... Da una casa... Non è proprio la tua... Eh... Aspirazione... Sì... No... Perché l'ultimo... Infatti... Perché sento molto questo... Eh... Logicamente... Un'altra paura che ho... Perché siccome ho avuto molte malattie... Nella mia vita... Anche tumori molto pesanti... Però sono sempre sopravvissuta... E infatti mi chiedo come mai... E quindi ho paura... Sembra che ogni dieci anni... Ci sono dei cicli che mi ammalo... Di una malattia forte... Forte... Che posso morire... E quindi è per quello... Che non ha sé... Cioè che mi chiedo... Ancora non ho capito delle cose... Dopo che dovevo morire tre volte... Quattro... Capito? Beh... Certo... Come se... No... No... Esatto... Quando tu ti agganci a qualche cosa... Che ti zavorra... Quello è il discorso che ti devi fare... Fondamentalmente questa... Azione ciclica... Di queste malattie... Che ti portano... Ad avere... Il rischio di... Terminare... In anticipo... Questa reincarnazione... Non è una memoria tua... Ma è la memoria che hai stillato... In questo corpo... Tua madre dall'inizio... Già che me ne hai parlato... Noi la togliamo... Se tu sei d'accordo... Affinché non avvenga più... Ciclicamente... Perché non è... Non è una cosa che ti appartiene... Quindi... È di mia mamma... È di tua mamma... Sì... Quando all'inizio dei tempi... Nel momento in cui tu ti ha sentito... E sapeva che tu stavi nel suo grembo... Lei ha stillato... Questo desiderio di non farti nascere... Non ce l'aveva con te... Fondamentalmente era una sua difesa... Per se stessa... Però noi... Che cosa facciamo? Questo filamento energetico... Che si è stato... Innestato nella tua memoria energetica e cellulare... Di morte... Quindi di non sopravvivenza... Tanto che lei ti ha partorito... Sei mesi prima... Proprio per farti uscire... Non in un certo senso... Il fatto che di non volerti... Lo togliamo proprio... Tu lo prendi... Lo scolleghi da tua madre... Proprio come un filamento... Fai finta di arrotolare come un filo e un gomitolo... Prendi tutta questa bella sfera di un'energia che non ti appartiene... Apri un portale dimensionale... E lo buttiamo via... Via... Non ci appartiene più... Mai si ricostruirà... E non ti appartiene... Non lo vorrei più... Lo eliminiamo dal passato... Dal presente... E dal futuro... Proprio perché non dovrà più presentarsi... Sei d'accordo Titi? Grazie... Sì l'ho buttato... Ve l'ho chiuso anche la porta... Perfetto... Sei bravissima... C'è nulla da dire... Sì... Allora... Dimmi ancora... No... Sono contenta... Ah... Sì... Certo... No... Ma infatti io lo so... Perché ci sono dei momenti che sono contenta... Che è troppo bello essere contenti... No... No... È una meraviglia... Anzi... Abbiamo bisogno... Di risollevarci le nostre energie vibrazionali... Perché tutto intorno a noi... In questo mondo... Dove è stato comunque... Interferito da altri agenti energetici... Cercano di mantenerci in una bassa vibrazione... Invece noi dobbiamo vibrare alto... E quindi... Secondo me... Io sono più uno spirito felice che non... Sì... Certo... Assolutamente... E un'altra cosa... Una cosa che faccio... Che voglio anche togliere... Se è possibile... O fare qualcosa... Il giudizio... Degli altri verso di te... O tu verso gli altri? Io verso me stessa... Soprattutto... Ah... Un'autocritica... E quindi anche con gli altri in qualche modo... Perché mi dà fastidio... So che questa non è una cosa giusta... Non va bene... Non va bene... Ma guarda... Togliamolo se vuoi dalla tua... È una creazione tua questa... Una costruzione che hai fatto nella tua memoria... È una tua parte emisfero sinistro... E emisfero destro... Possiamo ripulirlo... Nella tua memoria fisica... Che intercede... Anche con lo spirito... Con l'anima... E anche qui... Proprio... Lo prendiamo con le tue mani energetiche... Come se fossi... Un magnete... E lo tiri via... Come costruzione... Affinché non ricompaia più... Nella tua mente... Come pensiero... E anzi... Una volta tolta... Che i tuoi pensieri... Verso te stessa... E verso gli altri... Siano fluidi... Positivi... Energetici... Senza soffermarsi... A nessun tipo di differenza... Che ti possa far costruire... Qualche argomentazione... Che non fa bene... Per il tuo cuore... E per la tua anima... Quindi con questo... Con le tue mani energetiche... E magnetiche... Tiri fuori... Proprio... Questa costruzione... La tieni... Nelle tue mani... E muovendo le tue mani... La fai scomparire... Proprio come per magia... Tutto si dissolve... Non sarà mai più creata... Né vista... Né costruita... Né nel passato... Né nel presente... Né nel futuro... Non c'è più... Sì... Quante cose belle... Che mi hai fatto... Eh sì... E l'ultima cosa... C'è qualcosa... Con mia mamma... Mio papà... Cioè... Vogliono dirmi qualcosa... C'è qualcosa... Che devo fare ancora con loro... Che devo... Allora... Non li hai più in vita... Non sono più presenti... In questa dimensione... No... No... Senti... C'è tuo padre... Che si palesa... Come ti dicevo prima... Come se lui... Fosse qui... Nella sua integrità... Di un uomo... Che in un certo senso... Chiede scusa... Una sorta di perdono... Come se... Dimmi... Si è suicidato... Ah... Ecco... Vedi... Apposta era sempre presente... Che veniva... E veniva... A farti vedere... Sì... Chiede perdono... Per quello che ha fatto... Perché l'unico momento... In cui... Ha deciso... E ha fatto... Eh... Questa... Eh... Questo evento... Quest'azione... Ha subito cercato... Di rientrare nel corpo... Ma ormai era troppo tardi... Si è tanto pentito... Di quello che ha fatto... Ma la sua mente... Come se... Fosse entrata... In un circuito... Rindondante... Non riusciva più... A riorganizzare... I suoi pensieri... La sua... La sua forza... Ti chiede perdono... Titti... Quindi... Dimmi tu... Se senti di perdonarlo... E di abbandonarlo... Anzi... Non c'è bisogno... Neanche di perdonarmi... Perché secondo me... Ognuno deve... Boh... Se l'ha fatto... Avrà avuto il suo motivo... Anche perché non stava comunque bene... Quindi... Non stava bene... Sì... Anzi... Io l'avrei anche aiutato... Sinceramente... Non so... Quindi... Lo perdono sicuramente... Figurati... Certo... L'unica cosa... Magari... Se si può... Perché mi ha detto delle cose tutte... Prima di morire... Tipo che io... Dovevo avere le stesse malattie di mia nonna... E provare come stava... Volevo un po' togliere sta roba che mi aveva detto... Perché era pesante ogni tanto... Quando l'ambito... Allora guarda... Noi glielo chiediamo... Glielo diciamo proprio... Guarda... Chiediamo a tuo padre... Di ritirare... Proprio come abbiamo fatto con i filamenti energetici di tua madre... A sé... Anzi... Che li ristaccasse da te... Dai tuoi... E... Dalla tua energia... Dalla tua anima... Dalla tuo spirito... Dalla tua... Dalla tua mente... Corpo... E da tutti gli ambienti dove queste parole hanno preso corpo e si sono ancorate... Quindi di ritirare a sé tutto quello che ha creato come energia pesante e negativa... Quelle parole che sicuramente non erano state dette con cattiverie o con intenzione... Ma che hanno creato delle filamenti energetici che non fanno bene... Che vanno a creare dei cortocircuiti in diverse situazioni della tua vita... Quindi lui con grande accuratezza sta tirando via tutti questi filamenti energetici... Che queste parole hanno costruito nel passato, nel presente e nel futuro... Le sta ritirando e demolendo... Cioè le ha proprio distrutte come le ha create... Si sono disintegrate nel momento in cui si sono staccate in tutti i luoghi dove si erano appoggiate... Dentro di te, fuori di te, nella tua casa, nel tuo percorso... Cancellate anche nel tuo futuro... Bene... Lui si allontana... Ti ringrazia... Grazie a lui... Sì... Tua mamma si è distaccata velocemente nel momento in cui è andata via... Perché è come se animicamente non avesse gradito molto questa reincarnazione... È ritornata diciamo in sede come a ripristinarsi dalle ferite... Non ha fatto una vita così meravigliosa ovviamente... Poi si è dovuto vivere anche il dolore di tuo padre... Sicuramente è andata un po' a ricostruirsi energeticamente... Quindi è lontana... È morta prima di mio padre... È morta ecco vedi... Lei non è stata amata... Non si è sentita mai amata... Ha sofferto... È un tumore... Lei che cosa è successo? Soffriva di cuore... Soffriva di cuore... Eh vedi... Infatti quando sono andata c'ero io... E mi ha detto... Io voglio morire... Io non sono mai a casa... E c'ero io quella volta... Eh vedi... Quindi è accompagnata nel suo viaggio... Sì... È ritornata a casa... Non sta mentre tuo padre è ancora qui a chiedere un po' di perdono... Perché ci saranno i tuoi fratelli... Che poi a sua volta domani lo perdoneranno... E quindi lui lascerà questa dimensione di mezzo... Perché è una dimensione di mezzo... E tua madre invece se ne è andata via... Proprio come alle carceri ferite... A ricostruire la sua energia... Eh... Spero sia già rincarnata... Perché si è... Perché ha avuto tante cose belle... Eh non è ancora pronta per reincarnarsi... Sì ci riproverà diciamo... Ad avere una... Lei era venuta per fare l'esperienza di maternità in una vita felice... Invece qualcuno ci ha messo lo zampino... E sono energie... Demonia che... Che si sono infiltrate per la gelosia nei confronti di tuo padre e in tua madre... Come se qualcuno avesse messo lo zampino in quella coppia... È una cosa molto lontana... Non riesco a visualizzare bene... Ma percepisco questo... È stata una coppia con me invidiata... C'era gelosia nella parte di tuo padre... Era un uomo che è stato promesso per un'altra... Che cosa faceva tuo padre non lo sai... Non ti hanno mai detto... No no... Però era un bell'uomo... Non era neanche ricco... Quindi non penso che... Per amore è stato fatto come un... Ha detto... Ha preso tua madre rifiutando un'altra donna... Ci hanno messo dentro qualche cosa di negativo... A proposito di questo... Quando sono nata io... Al paese dove sono nata... Era nato un altro bambino... E però è morto... Di sei mesi... A me mi hanno sempre raccontato che... Mi hanno fatto una fattura... Ma io non credo queste cose... Però... Nella famiglia ogni tanto si diceva... Sì perché quella lì parlava male di te... Comunque perché tu sei sopravvissuta... E il suo figlio no... È possibile questa cosa? Oppure una roba... Beh... Guarda... Non che abbia potuto fare anatemi... Diciamo... Invidiando te che eri nata e cresciuta... E quindi rimasta in vita... Non ha potuto lanciare negatività... Nella tua sfera energetica... No... Tu avevi il tuo percorso... E in realtà... Come ti dicevo... Eri rimasta ancora chiusa... Quindi le... Gli eventi di poca sorte... Che ti sono capitate... Nella tua crescita... Era un po' come quelle... Che ti attiravi a te... Di chiusura... E altro... No... Non vedo vibrazioni che ti sono arrivate... Lanciate da questa donna... Era debole... Poi comunque... Ma io penso di aver chiesto tutto per oggi... Cioè... Però... Certo... Lo pensi... Sì... Guarda... Io penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro... Intanto togliendoti questo blocco molto importante... Della tua nascita... E mettendoti in apertura... Verso questo mondo propositivo futuro... Che si sta già costruendo e creando per te... Tu sei già comunque molto avanti... Quindi non farai altro che prendere possesso di questa espansione... Che c'è in te... Che sta proprio... È avvenuta... E prendere in mano la tua vita... Con questo lancio di apertura... E non più di limitazione... Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro... Anche se... Non sono troppo vecchia... Non sei troppo vecchia... No... Perché se... Questa cosa dell'età... Mi... Ogni tanto... Mi dà fastidio... Perché a me piace essere tipo una ragazzina... Una ragazzina... In effetti... Se consideri che... Potresti avere ancora... Altri vent'anni... Fino a 70 anni di lucidità e di integrazione... Con la tua mente lucida... Gioviale... Allegra... Non sono pochi i vent'anni di vita vissuti... Quando due o tre anni starei qui... Potrai andare in un altro luogo... E poi in un altro luogo... Sarai... Continuerai a essere... In piena salute... Con grinta e con potere... A fare tutto quello che vuoi... No... Propositiva e integra per il futuro... Che non è così breve... Grazie... 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 Bene... Guarda... Allora... Io dentro a questa bellissima sfera energetica di protezione... Dove tu sei stata per tutto il tempo... Lascio entrare e cadere un'energia pranica positiva... Universale... Affinché ti mantenga con questa espansione... Con questa integrità... Con questa lucidità e carica emotiva... Che dovrai elargire per il tuo slancio quantico di libertà e leggerezza... Mi distacco da tutto e da tutti... Ti ringrazio... Ti ringrazio... E torno qua al tempo presente... Grazie a te cara... Abbiamo fatto... Guarda... Una sessione molto bella... Io... Dimmi... Ti è piaciuta? Molto... Sì... Perché... Ti ho sentita molto... Chiara... Lucidamente... Mi lanciavi le informazioni all'inizio... Un pochino trattenuta... Ma poi... Ti ho sentito... Insomma... Sciogliere... E... Sono certa... Che... Metabolizzi in fretta... Quindi non avrai bisogno di tempo... Per accertarti che... Ti stai trasformando... E tutto il tuo futuro si trasforma... Va bene... E poi... L'ultima cosa... Se hai bisogno... O se trovo... Cioè... Se c'è qualcuno... Io te lo mando... Magari... Grazie... È bellissimo il lavoro... Voglio dire... Comunque sei bravissima... Non so come si fa... Cioè... Come arrivi a fare questo... Ma...